Nello scorso weekend, un corpo senza vita in stato avanzato di decomposizione è stato scoperto nella zona vicina, la Litoranea, nella Pineta di Campolongo, ad Eboli. Si tratta di un trentenne marocchino residente a Capaccio Pestum e con precedenti per spaccio di stupefacenti. La sua compagna aveva denunciato la scomparsa da casa. Il corpo presentava delle ferite sul volto, sul posto per i rilievi del caso e i carabinieri della locale compagnia, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, quelli del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno e gli agenti del Comando di Polizia. Al via le indagini del caso per ricostruire le cause della morte. Non è esclusa la pista dell'omicidio, viste le ferite ritrovate sul corpo dell'uomo. Il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno ha disposto l'autopsia sulla salma della vittima che è stata trasferita nell'obitorio dell'ospedale Bolitano. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.